Osvaldo Di Teodoro, bene tanti cantieri in città ma a suo giudizio bisogna capire in virtù dei disagi causati a residenti e attività commerciali quali sono i criteri per il rilascio dell'autorizzazione pubblica verso questi cantieri? Sì ha detto bene, bene all'apertura dei cantieri e non ci può che far piacere praticamente ristrutturare insomma ecco tutti tanti edifici che sono obsoleti in città però è anche giusto magari buttare un occhio su quello che potrebbe essere diciamo limitare la libertà degli altri nel senso ecco c'è da capire un attimino quali sono i criteri che vengono adottati nella concessione dell'occupazione del suolo pubblico. C'è da dire che probabilmente in virtù della ricostruzione post terremoto e del bonus 110 questo problema ci sono tanti cantieri e quindi questo è un problema che affligge in molti. Sì sì certamente che sì e per fortuna ecco possiamo registrare l'apertura di tanti cantieri in teramo centro soprattutto e quindi voglio dire a maggior ragione che questo aspetto va un attimino accentrato e cercare di capire di creare quali sono i disagi che andiamo a creare nell'apertura di questi cantieri soprattutto in centro storico.